Rottamare qualsiasi usato La campagna Meno CO2 Più Sicurezza è un'iniziativa realmente protesa a svecchiare il parco automobilistico circolante italiano, uno dei più vetusti d'Europa. Meno inquinamento grazie alla tecnologia termo-hybrid benzina GPL di DR Automobile, che ti fa risparmiare l'ecotassa e ti permette di accedere anche alle zone ZTL. Maggiore sicurezza grazie agli elevati standard di protezione dei modelli DR e DEVO. Grazie a tutti.